Vorrei rivolgere un pensiero a tutti i professionisti dell'ospedale di Perugia. Nel corso degli anni tutti noi abbiamo usufruito delle qualità dei servizi dell'ospedale. Io per primo ho affrontato un intervento al cuore, intervento riuscito, che mi ha permesso di aumentare la qualità della vita. Con lo stesso cuore colmo, colmo di riconoscenza, esprimo la vicinanza, esprimo il mio sostegno a tutto il personale medico e paramedico. Io credo che noi si debba fare il nostro dovere, dobbiamo fare la nostra parte restando in casa. Loro salveranno le vite umane. Io tifo per loro e sento che insieme vinceremo la partita più importante.